Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di orata con piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono filetti di orata, piselli, pan carré, scalogno, prezzemolo, la scorza di limone, uovo, latte, menta, pan grattato, sale, pepe, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con i piselli, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma con le orate, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Nel frattempo mettere il latte nel pan carré. i filetti di orata sono cotti. I piselli sono cotti, mettere da parte e svuotare il boccale. senza lavare il boccale, mettere lo scalogno, la scorza di limone, il prezzemolo e la menta. Ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i filetti di orata, la metà dei biselli, il pan carré, l'uovo, il pepe, il sale, il parmigiano, il pecorino. Ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere il pan grattato ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 6. formare le polpette. prendere un po' di impasto formare la polpetta e mettere da parte. friggere in abbondante olio caldo fino a doratura. impiattare servendo i piselli rimasti. polpette di orata con piselli. grazie e alla prossima ricetta a presto. a presto. a presto. a presto. a presto.